In ottima salute i Liguri sono andati per primi in vantaggio a Ferrara con un bel colpo di testa di Romei. Eccolo. La Spal in dieci per l'espulsione di Fabri ha reagito rabbiosamente e un minuto dopo è tornata in parità grazie a questa segnatura di Gropp, anch'essa di testa. Poco dopo i Ferraresi colgono un palo, senza seguito.